Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo episodio, episodio numero 91 Signori, nello scorso video grande impresa, mi chiedo comunque la scusa per i lag Ma, grande impresa, abbiamo ucciso il drago, signori Infatti nel nostro bellissimo inventario abbiamo l'uovo del drago, signori Allora, prima di partire dal video io vi ringrazio per i lag, per i commenti, per i giudizi e per il supporto che dà dalla serie al canale Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno Io il mio ce lo sto mettendo, signori, da 91 episodi che andiamo avanti su questa avventura con idee sempre nuove, almeno per ogni episodio E il resto tocca a voi e vi chiedo un grande supporto Basta semplicemente un click sul pulsante per iscrivervi e anche un bel like e un bel commentino tattico per i quali sono sempre pronto a rispondervi Allora, signori, cosa facciamo nel video di oggi? Allora, nel video di oggi andiamo a provare il Void, signori Sì, tutto di botto, ieri il drago, oggi il Void Ebbene sì, perché? Perché voglio vedere se abbiamo il culo di trovare un castello, una fortezza direttamente, subito, senza perderci troppo tempo Allora, lasciamo tutto qui quello che non ci serve Quindi diciamo che tutte queste boccettine della salute le possiamo lasciare A parte una che ce la portiamo, che non si può mai sapere, signori Effettivamente mi sono tornate molte utili Ci portiamo il resto, carote e tutto l'ambaradanne, anche le mele d'oro No, le mele d'oro direi che le possiamo anche lasciare Ci portiamo semplicemente le carote in più rispetto alla normalità È una boccettina, è una pozione di cura che può tornare utile una cosa qualsiasi Gli ender mandorre a romperci le scatole Detto questo, sì, signori, torniamo nel Nether Dal Nether cercherò la strada per arrivare nuovamente al portale Cosa che purtroppo non ho ben tracciato E in un video dovremmo farlo In modo tale che riusciamo a fare velocemente il passaggio Riusciamo velocemente a raggiungere la zona del portale Dove c'è, dal quale possiamo raggiungere Non ricordo minimamente, signori, dove cazzola dobbiamo andare Di qua? Forse di qua Vedo tante torce in questa direzione Quindi penso che forse dobbiamo andare in questa direzione Va bene, detto questo, signori, faccio questo breve taglio E ci vediamo appena siamo pronti a entrare nel portale Direi che la soluzione è migliore Sì, sì, facciamo un taglio, signori Facciamo un taglio tecnico-tattico Ok, signori, è più facile del previsto La strada che ci porta a questo portale di qui Devo solamente perfezionare un attimino con le torce Però è abbastanza facile Niente di particolare Madonna mia, mi sono visto nella lava Ho detto che cazzo allora è successo Porca miseria, sti bug che mi fa il computer Mi fanno uscire pazzo Mi fanno uscire pazzo In tutto questo noi siamo dei perfetti cretini Perché adesso, tra l'altro, io sto parlando Mi sta caricando Cosa? Cosa? No, signori L'infarto L'infarto più totale L'infarto più totale, signori miei Madonna mia, l'infarto Madonna mia, l'infarto L'infarto, signori L'infarto L'infarto Che bug terribile Madonna mia Se cadevamo così nel vuoto Era finita Praticamente Cioè No, vabbè Ma sto gioco non mi può fare pia Sti infarti così Non 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 è giusto Non è Non è Non è giusto Non è giusto Cazzo L'infarto L'infarto Che mi ha fatto pia Mamma Sto insultando male il gioco Sì Sto insultando male il gioco, signori Sto insultando male il gioco Ne ho Ne ho le mie motivazioni Mi sono visto Perso Mi sono visto perso Allora Intanto dobbiamo fare una cosa Dobbiamo noi viaggiare in sicurezza Di conseguenza mettiamo Dei Un doppio ponte qui Perderemo un po' di tempo Sì Perderò il dito Che tiene ammaccato lo shift Lo shift Sì Perderò anche quello Ma sinceramente Io voglio Poter raggiungere la terra ferma In maniera In maniera sicura Perché così Non ci siamo Proprio Ok signori Ho fatto un rapido taglio In cui sono andato a costruire Tutto quanto il ponte Così non vi ho annoiato Con questa ennesima Costruzione Allora Qua facciamo però anche una scaletta Carina e coccolosa Che ci fa salire sopra Se no Abbiamo qualche problema Saliamo Dai è così Così nel frattempo recuperiamo anche qualcuno di questi blocchi Che dobbiamo anche andare a fare una piattaforma Dal lato Quello del Dove ci sarà il nostro nuovo portale Signori Quello che ci porta Nel void Nel void Che se non ricordo male È in quella direzione Di là Andiamo a vedere un attimino Dove cazzo Fortezza vicino Signori Noi con calma Ci salutiamo E la visitiamo nel video di domani Perché così riusciamo a ottenere anche gli shulker box E non è male come progresso Signori Decisamente no Se 45 Non mi piace Deve essere 46 Ok Se non abbiamo nessuna fortezza vicino La nostra base Andiamo a recuperare Semplicemente qualche Frutto Qualche albero Di quello Di quello che Di quegli strani Che ci sono lì nel void E da lì poi Andremo un attimino Ci torneremo a casa E faremo qualche sistemazione A casa Riguardante appunto Anche tramite quegli alberelli di lì Recuperiamo qualche altro blocco Perché Non so voi Ma io ho sempre avuto paura Di questi portali Sospesi nel Nel vuoto Signori Di questi portali Sospesi nel vuoto Io ho sempre avuto paura Dici ma non può succedere nulla Eh sti cazzi Decisamente sti cazzi Non ce lo mettiamo Perché una cosa qualsiasi Ci ritroviamo giù Come delle pere cotte Quell'enderman Mi sta passando davanti E al momento Gli davamo una zappata Sui piedi Che Non che ormai Abbiamo più paura Degli enderman Signori Però Se li possiamo evitare Non è mai una cosa brutta Allora Inizierò a fare la scala Di qua Sì Enderman mio Te devi lavar però Perché non sei Compreso nella costruzione Quindi te devi Le va De brutto Ok Iniziamo a salire Piano piano Non so a che altezza Dobbiamo arrivare Ma più o meno Ci avviciniamo Facciamo qualche altro gradino Poi signori Ovviamente Con il nostro Procedere Con calma Porca miseria Dove cazzarola è Dobbiamo salire tanto Pensavo di essere già vicino Invece Sta cazzarola di cosa È lontanissima Qualcosa mi dice Che dobbiamo un attimino Ma anche Ci stiamo finendo sotto Vero E diciamo che Diciamo che mi sta anche bene Dai Diciamo che mi sta anche bene Saliamo un altro poco Saliamo un altro poco I progetti Quelli che cambiano Dopo pochi minuti Saliamo un altro pochino Così già dovremmo essere Abbastanza Vicini Ok Perfetto Sì Così già Così già va bene Anzi Ma chi se ne frega Ce li abbiamo i blocchi Sì E allora Consumiamoli Facciamo altre due Rampe di scala Dopodiché facciamo Una piccola Basetta Basotta Basina Che arriva direttamente lì Se siamo andati Troppo alti Siamo decisamente andati Troppo alti Sì Sì Allora va bene Questo lo faccio Lo risistemo anche off camera Signori Facciamo due gradini più bassi Facciamo la base un pochino più bassa E così riusciamo A quando Despawniamo lì Ad atterrare in un punto Ecco Diciamo che qui Ci può anche stare bene Diciamo che qui Ci può anche stare bene Faccio questa Rapidissima base Signori Perché ripeto Ho paura ogni volta Che si torna da questo Da questo portale Di spawnare da qualche parte E cadere nel vuoto Come era successo poco fa Come è successo poco fa Che per un bug terribile Mi è venuto un infarto Signori Per un bug terribile Mi è venuto un infarto Allora spero che lui mi faccia Spawnare qui Diciamo che Lo spazio adesso ce l'abbiamo Spero che poi quando io ritorno Lui mi faccia spawnare qui Senza alcun tipo di problemi Prendiamo il nostro render per signori Decisi Incrociamo le dita E andiamo nel void Signori Sta caricando Abbiamo compiuto un progresso Sta comparendo il mondo Davanti a noi E noi abbiamo Allora Do cazzarola Siamo noi Su una base Ok E come al solito Abbiamo la fortuna Una fortuna di merda Ma porca Abbiamo una base Che è lontanissima Abbiamo tutte quante Gli isolotti lontani Quello che cazzarola è Non si sa Ma possiamo fare Questa vita Guarda quanto è distante Quello Noi non abbiamo Abbastanza blocchi Neanche lontanamente Per arrivare lì Ne abbiamo 35 Non ci basta Ma nella vita 35 blocchi Per arrivare lì No E neanche Quella addirittura È nera Quella proprio Neanche Neanche la riccia Caricata è tutto Allora Vediamo un attino Di recuperare qualche blocco Da qua signori Dobbiamo recuperare qualche blocco Di qua E voglio gli alberi Quanto meno Dici siamo venuti qua Nel void Voglio quanto meno Gli alberi Indocazzarola è il nostro portale Lì sopra Va bene Va bene Va bene Il nostro portale È lì sopra Andiamo nella direzione Di quell'isola Che è l'unica Che realmente Si vede E qui E quindi Tenteremo l'avventura Verso quella A meno che non facciamo Una porcata Signori Aumentiamo i chunk E vediamo che succede Può essere che aumentando i chunk Riesca a vedere Un'isola lontanissima Che ci può portare fortuna Intanto qua Chiudiamo Perché se Faccio una manovra sbagliata Cadiamo giù nel vuoto Come niente Proviamo a aumentare i chunk Signori Facciamo esplodere il computer Sì Portiamolo a 8 Fatto Riprendi Allora Niente Quella è un'isola normale E quella è un'altra isola normale Che però Mi sembra Un pochino più grande Sì Quella mi sembra Mi sembra più grande Mi sembra un buon punto Di partenza Signori Non riusciremo mai Però Ad 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 arrivarci Con questi blocchi Che abbiamo Però Però Che vedevo di Proviamo a iniziare Ne abbiamo 60 60 25 Vediamo se riusciamo a regolarne qualche altro Allora Allorghiamo questa parte centrale Perché è l'unico L'unica cosa che possiamo fare No No Decisamente No Va bene Proviamo signori Dobbiamo 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 pure iniziare Questa avventura Anche nel void Cadremo nel vuoto Spero di no Spero di no Mi auguro di no Signori Mi auguro di no Proviamo Proviamo Non abbiamo più nemmeno Dice Gli slab di legno Che potremmo sfruttarli Per Per Diciamo Gli slab Vabbè Sto parlando da solo Signori Sto parlando da solo Perché sono nervoso Sono nervoso Sto parlando da solo Ho paura di cadere giù Mamma mia Mamma mia Mamma mia Con calma Con calma Con calma Abbiamo ancora altri 60 blocchi da poter attaccare Dai Dai Allora ci fermiamo un attimino Appena arriviamo a 20 blocchi Ci fermiamo un attimino E capiamo dove siamo Capiamo se dobbiamo un attimino anche Iniziare a girare Sì No Andiamo ancora avanti così Ci spariamo questi altri 20 blocchi Dritti per dritti così Tanto comunque ci stiamo avvicinando E gli altri 30 invece Ce li andiamo a mettere Di lato È vero che se facevo la scaletta La 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 costruzione laterale Sicuramente Risparmiavamo Un po' di blocchi Uuuu Che cosa brutta Dai Dai Allora In basso a sinistra Inizia a comparire L'isola L'isola Quindi Dovremmo comunque essere vicini Forse Forse Si spera Si spera Dai Isola avvicinati Avvicinati Isola Porca miseria Isola avvicinati Isola avvicinati Isola avvicinati Sugli ultimi 20 blocchi Ehm Gli ultimi 20 blocchi Gli ultimi 20 blocchi Andiamo di nuovo così È un percorso di merda Sì signori È un percorso Proprio di merda Ma lui mi poteva fare spawnare In un altro punto Più brutto Dico Dico Che ci voleva In un altro punto Più di merda Mi poteva far Spurre spawnare No No Perché renderci La vita facile Perché renderci La vita facile Allora Siamo lì Ok Dovrei avere Delle ender Per Perfetto Lanciamoci là Ok Recuperiamo un po' Di blocchi Così Quanto meno Riusciamo a Finire la nostra Costruzione Ok Io non ho preso Le coordine del nostro portale Ma non ho intenzione Di esplorare più di tanto Signori Sappiatelo Sappiatelo Che oggi Non abbiamo Intenzione Di esplorare più di tanto Volevo semplicemente Vedere dove Spuntavamo E se per caso Spuntavamo In un punto Con una barca vicina Ma la fortuna Non ci ha assistito Per nulla Allora Da dove No Da dove Più o meno Da qua Da qua Diciamo che è da qua Sì Diciamo che è da qua Facciamo la nostra Scaletta Per raggiungere La nostra zona Nel portale Mamma mia Un video di costruzioni Oggi signori Un video che Secondo me Starà durando pure parecchio Di costruzioni Ci siamo? Docazzerola 6 Un altro poco Dobbiamo salire Però Però Va bene Esplorazione Signori Giustamente Siamo nel nether Siamo nel land Siamo nel void Oramai iniziano I nuovi video Di esplorazione Ma vaffanbagno Te lo attacchi Questo ponticello Perfetto Ok Ok Ce l'abbiamo fatta Mettiamo una torcia qui Così più o meno Ci ricordiamo Che il nostro portale È qui E niente signori Proviamo a fare un giro Mettendo sempre Delle torce a terra Perché l'ultima cosa Che voglio È perdermi Non vedo Niente Di interessante Non vedo Non vedo Assolutamente Nulla di interessante L'isolotto È grande Ma non vedo Castelli Costruzioni O come si può dire Barche volanti Decisamente No Decisamente No signori Il nulla cosmico Questa prima Impresa Nel void Si sta trasformando Nel nulla Cosmico Là ci sono Altre strutture Grandi Ma No No Non vedo Di quella parte Lì non vedo Barche volanti Andiamo a vedere In quella direzione Di là Che c'era anche Qualche Che l'isola Comunque si allungava Anche in quella direzione Di là Vediamo Se vediamo Qualcosa Di interessante Così A occhio nudo È vero Che abbiamo Sempre Sei chunk Quindi Non abbiamo Grosse possibilità Di vedere In profondità Però Però Un minimo Diciamo Che possiamo Allungare La vista Diciamo Possiamo Provarci Una bella Fortezza Così No Mi devi sempre Romper le palle A fare Esplorazioni Che dureranno Vite e vite Per me Non è male Perché comunque Ci giriamo Un sacco Di video Per andare A cercare Sti castelli E sti fortezze Dico Però È una Rottura De scatola Dover andare A fare Tutti i ponti Tutte le situazioni Niente Non vedo Assolutamente Niente Completamente Il nulla Cosmico Possiamo aumentare I chunk No signori No 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 A questo giro I chunk Non li allunghiamo più Perché se no Il computer Mi esplode Veramente Dov'è Il coso Qui fruit E quello Me lo pigli pure E cazzo Non ci arrivo Pidiamo due Tre alberelli Che ci ripiantiamo A casa Signori E così Facciamo qualcosa Di carino Anche a casa Con questi Ok Abbiamo fatto Un altro Un altro Treatment Bene Così Mi piace Via questo L'ha preso No Non l'ha preso Un ragazzo Si è bugato Ok Adesso L'ha preso Mi secca fare Ponti troppo alti Mi secca fare Costruzioni alte Signori Non so se si è notato Quindi spero di riuscire A prenderli Vabbè L'abbiamo fatta La costruzione alta Ok Uno Ok Due Vabbè che poi Questi Ok Tre Nesso Cascato Manneggia A me Vabbè che poi Questi Ognuno Fa i fiori Quindi Diventa una sorta Di farm infinita Però Se riusciamo a recuperarne Il più possibile Adesso E poi evitiamo Di dover Andare a giro Non è male Come cosa Ok Rompiamo anche questi Perché mi sa che è rimasto Bloccato là Infatti Recuperati questi Recuperati questi Recuperati questi Recuperati tutti questi Quanto ne abbiamo portati a casa? Dieci Dai Dieci Dieci ci bastano Signori Dieci di questi Ci bastano Quanti blocchi abbiamo Di questo di qua Che non ricordo nemmeno Come cazzo la si chiama Potremmo C'è magari una ventina Che non ci serve A niente Però non so Se questi alberi Vanno piantati Su Questo tipo di terra Su questo tipo di blocco Chiedo scusa Non è terra Ma sono blocchi E niente signori Torniamocene Mestamente a casa L'avventura è andata bene Abbiamo esplorato il void E niente signori Avviciniamoci nuovamente Al nostro portalino Facciamo la Strada Della morte Praticamente Perché se Se mi fa un bug O il mouse Decide di prendere vita propria Noi non ci arriviamo a casa Per questo Me la farò piano piano tutta Con lo shift ammaccato Signori Perché l'ultima cosa Che voglio è cadere Ma non vi preoccupate Perché ve lo taglio In questo momento Con uno schiocco di dita Ci troveremo sotto il portale Ok Siamo nel nostro portale Facciamo una piccolissima cosa Mettiamo qualche torcia Perché qui Gli enderman Stanno a far festa E questa cosa A noi non va bene Facciamo anche qui Una mini Una mini scala Che non ci dispiace Per riuscire a raggiungere Però non mi piace Il fatto che debba salire di lì Ok Una mini scala Per riuscire Più o meno A raggiungere Il nostro portalino Ok Ricordiamoci di tenerci Almeno 10 blocchi Ci siamo Il portalino Sì Dovremmo riuscire a raggiungerlo Saliamo giusto giusto Un altro Tanti blocchi ce li abbiamo E direi che Signori Possiamo Con la nostra ender Per riattraversare Il portale E tornare Nell'end Ok Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Siamo spawnati In un punto Non bellissimo E allora Vista la situazione Facciamo anche così Perfetto Scendiamo giù Mettiamo anche una torcia Qui sotto Così riusciamo Ad identificare Dove di preciso Il nostro portale Quando torniamo Da Da quella zona di là E niente signori Detto questo Rietraversione del portale Torniamo a casa nostra Dovremmo anche eliminare Tutti sti blocchi di terra Che sono veramente brutti Attorno alle torri Però Però Lasciamo lì Sono segni Di una Di una Di una Di una storica battaglia Signori E siamo tornati a casa Sta calando il sole O sta sorgendo Non ne ho la più pallida Delle idee No signori Sta calando la notte Quindi andiamo Velocemente a dormire Così Ci recuperiamo Le nostre forze Se vedete tutti Gli achievement È perché effettivamente Ho registrato Questo video Subito dopo Quello di ieri E No Non ho scritto Perché mi fa Non ho mai scritto V In nessuna maniera Mi era spuntata Dalla scritta V là sotto Va bene signori Detto questo Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per i suoi genitori E per il supporto E Torneremo nel void Per andare a cercare Le fortezze O i castelli O le case O le cazzarola Di costruzione Che ci sono Ma non Oggi E non Prossimamente E non domani E non dopodomani Ma lo faremo Detto questo signori Io vi ringrazio Per i commenti Per i suoi genitori E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao